Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news sul mondo di Call of Duty, come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace ed un commento per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Oggi notizia veramente molto interessante perché Major Nelson di Xbox ha annunciato l'arrivo di Call of Duty 2 su Xbox One. Apro e chiudo parentesi, state vedendo come sottofondo un gameplay di Call of Duty 3 perché avevo fatto diverso tempo fa il World True, purtroppo Call of Duty 2 non sono riuscito a recuperarlo negli anni passati e quindi non ho nessun gameplay di Call of Duty 2, però nel frattempo vi ho voluto mettere un gameplay di Call of Duty 3 sempre dell'Infinity World. Tornando a noi, quindi vi stavo dicendo che Major Nelson ha annunciato che il titolo dell'Infinity World, Call of Duty 2, è disponibile su Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Quindi il secondo gioco della saga di Call of Duty, sempre sviluppato dall'Infinity World e passava l'anno 2005, arriva finalmente anche su Xbox One. Se andiamo a vedere adesso i titoli retrocompatibili della saga di Call of Duty su Xbox One, abbiamo Call of Duty 2 e Call of Duty Black Ops. Si vocifera in questi giorni anche dell'arrivo di Call of Duty Modern Warfare 2, sto preparando un video che vedrete in questi giorni perché ho trovato delle notizie importantissime e la prima conferma a quanto pare di Modern Warfare 2 su Xbox One. Ma allo stato attuale abbiamo Call of Duty 2 da ieri e Call of Duty Black Ops da qualche settimana. Fatemi sapere se siete contenti di questa notizia e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.